Io non gioco, io non gioco, questo è quello che sappiamo far notare i cani con condizioni di calza, questo è quello che lei ci vuole che noi, adesso noi ufficiali, insegniamo ai nostri fratelli, prego Andrea, mandalo così non ci voglio giocare. Andate, andate aspetta. Ora, insomma, ci sono un certo processo di scoprire. Allora, ci sarà continuamente tutto qui, che è l'abile. Andiamo all'azienda di nasce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.